Ciao a tutti ragazzi, Amazon chiude Questa mattina mi è arrivata questa email Buongiorno dalla logistica Amazon mentre il virus continua a continuare i clienti scelgono sempre di più l'e-commerce Infatti in un mio video precedente potete vedere quando ho spiegato sommariamente cosa fare e chi in questo momento come arrivati in business quindi l'etica e tutti gli altri discorsi relativi a questo momento storico le lascio a persone che si occupano di questa cosa Io mi occupo di business, quindi parliamo di business Dicevo, le persone che avevano una logistica pronta su Amazon in questo periodo hanno fatto tanti soldi a tanti tanti Ovviamente se uno è bravo c'è prodotto perché comunque adesso si tratta di persone che stanno sempre a casa e quindi c'è l'acquisto compulsivo e uno clic 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 acquista 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 e infatti Amazon stessa ha dichiarato che questo periodo ha fatturato molto molto di più Comunque si dice che Amazon.it Amazon francese sospenderanno i servizi si concentreranno su prodotti che hanno la massima priorità Quindi sospenderanno tutti gli ordini considerati meno essenziali Fino a... non c'è scritto... Non c'è scritto... fino a quando Quindi cosa fare? Ah ah, li attaccate a... Io ho visto un po' di video in giro dove ci sono 8 miliardi di consigli su come investire i propri soldi adesso per guadagnare Ma io penso e se non è vero scrivetemelo nei commenti perché posso sbagliarmi ma dubito fortemente che in questo caso mi sbagli Io penso che tutti questi video che consigliano investi qua, investi là, fai soldi in 5 minuti Oh, hai la borsa Conviene investire in ville Pa, 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 pa Non capiscono un cazzo Perché uno non capisce un cazzo E questa è la verità Tutti questi video che vi consiglio investi qua, fai quello Sono persone che non capiscono un cazzo Punto Non dovete vedere video su YouTube Dovete studiare Ma nemmeno me Dovete studiare Chi fattura milioni Ok? Milioni Chi fattura milioni non sta sul tumbo Chi è importante non sta facendo nulla Non sta facendo nulla perché Come accennato nel video precedente È tutto sfalsato Ok? I valori degli oggetti Il prezzo Il valore degli oggetti Non corrispondono Al prezzo reale Quindi L'esempio di un'altra volta Una penna che costa 50 centesimi Oggi si vende a 10 euro E tu La paghi Non 50 centesimi Ma pensi 3 euro Quindi È un periodo in cui si danno dei valori sfalsati E tu che ti metti a fare Ti metti a comprare 8 milioni di penne E se domani finisce tutto quanto Che ci fai con 8 milioni di penne Pagate 3 euro Ci fai sotto In borsa In borsa non si deve investire adesso Nessuno investe in borsa Come cazzo puoi investire in borsa? Tu dici Io ho 3 mila euro Così Non c'ho un cazzo da fare Invece di vedere i video Sul tubo Mi investo in borsa Allora Secondo il mio parere Piattaforme tipo Etoro Se tu 24 ore su 24 Stai sulle piattaforme E ci capisci È fortuna Che devi avere fortuna Però devi essere consapevole Che quei soldi Non li hai Cioè Fai finta che tu stai buttando accesso 3 mila euro Poi se te ne tornano 10 mila Ben venga Però Tu devi partire al presupposto Che quei 3 mila euro 2 mila Ti stai buttando Perché In realtà li butti Stando tutto il giorno Magari Qualcosina si può fare Ci sta l'oro Che fa Fa su e giù Facendo compraventi 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 Però anche là Devi stare molto attento Alle Come si dice Ai Ai costi Della piattaforma Costi di transazione Eccetera Eccetera Ma ti ripeto Qua giusto se Uno vuole perdere tempo Non per avviare un business Le più grandi menti Di business Attualmente Non fanno nulla Aspettano Si sta aspettando Perché ancora Non ci si capisce nulla In altri stati Adesso si sta avviando L'emergenza Quindi Sarebbe sciocco Investire in qualsiasi cosa Però è intelligente Studiare quello che fanno gli altri Oppure Visto che comunque La realtà Dei fatti È che Una volta finita questa crisi Questa emergenza Virus Sarà un massacro Sarà un massacro Per tutti quanti Tutti Sarà un massacro Per tutti Perché saremo Tutti senza una lira Il governo Tira 600 euro Perché cazzo Ci fai con 600 euro È ridicolo Cioè Dalle ospedali Che fai Quella figura Una volta finita Questa crisi del virus Quando finirà Perché Ragazzi Sarà una cosa Lunghissima Ma proprio lunga Non finisce L'anno ad aprile Ci saranno aziende Che dovranno chiudere I dipendenti Che dovranno licenziati Perché la realtà De fatto è questa Quindi Cosa 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 Vi consiglio Vivamente di fare Se lavorate con internet Attraverso internet Di pianificare Trovano un modo Per far sì che Queste aziende Aziende locali Qua parliamo di lavorare Online Per Aziende offline Ok E aiutarle Aiutarle le aziende A A rinascere E a guadagnare Magari anche qualcosa In più rispetto a prima Su questo Io sono convinto Vi farò vedere In futuro I fatturati Sono convinto Che c'è una grande Opportunità Ovviamente Non dovete Prendere per il culo Le persone Le dovete Saper fare cose Perché Credo che Qua parlo Eticamente Non sia Corretto Uno sta in mano In mano All'anima Di non so che E voi dite Oh Vi faccio lavorare Io Invece non Sarà di fare un cazzo Quindi Prima Capite cosa sapete fare Poi Se siete in grado Ma veramente in grado Di aiutare No E quindi Di conseguenza Di guadagnare Perché parliamo Di guadagno Non siamo Padre Pio Questa sarebbe Un'ottima opportunità Dropshipping Ste cacate Qua Adesso Sono tutte Da eliminare Tutte Tutte Un po' Sarà così Ragazzi Filatevi 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 Poi mi direte Se ho ragione In quello che dico Ebay Ebay E' un'alternativa Interessante Ebay Sta funzionando Di nuovo Da Quando c'è Da quando c'è Questa situazione E si lavora Molto bene Con Ebay Adesso Ma per loro che sto lavorando Bene Ma non so Voi Se non sapete Lavorare bene Con Ebay Scrivetevi Vi faccio lavorare Io bene Con Ebay Quindi ragazzi Per concludere Per non fare Un video di 8 miliardi Di ore E essere Ripetitivo Statevi fermi Non fate nulla Specie Ragazzi I soldi sono finiti Vi dovete preparare A conservare A investire Ancora meglio Rispetto a quello Che facevate prima Perché sono finiti i soldi Finiranno Ragazzi Forse non capite Non lo so se capite Se siete Se siete Coscenti Della Della situazione Ed è per questo Che vi dico Studiate Chi Chi ne sa Di queste cose Non parlo di me Non investite a cazzo E non ascoltate i video Su Youtube Che vi fanno Perdere solo soldi Questo è uno video di persone Che vedono altri video Ma quello ha fatto un video Quello lo faccio più Quello ha quello E dico Tutte le stesse cacate Sono tutte cacate Eccetto 3-4 persone Che hanno la mia stima Sono Come sono bravi E Il resto Vale un cazzo Proprio un cazzo E E non gli buttare i soldi Ragazzi Non gli buttare In questo momento I soldi Sono necessari Avere liquidità Ma neanche i bambi In questo istante Per concludere Cosa fare Adesso In questo periodo Niente Non dovete fare Nulla Dovete solo Studiare Le persone Più brave Di voi Di me E di tutti questi Cazzoni Che stanno sul tubo Perché sono tutti cazzoni La maggior parte È cazzona Sono Millantano cose Che non fanno E che non hanno E non sono capaci di fare È un dato di fatto Se non è vero Scrivetevelo Nei commenti Fatelo vedere Perché se mi dite No non è così Guarda io Investendo in borsa Ho guadagnato 8 milioni di euro Vi chiedo scusa Ma Non farà nessuno Questo momento Prendetevi Questo tempo Per pianificare Il vostro business Considerando Che Ci sarà una crisi Terribile Terribile Lasciate perdere Amazon Dropshipping Affiliate Ma Vabbè Guarda L'affiliate Probabilmente Funzioni In questo periodo Io Non 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 Però Visto che Comunque C'è L'acquisto Compulsivo L'affiliate Marketing Potrebbe essere Interessante Oggi Però L'affiliate Marketing Molti Lavorano Attraverso Amazon Se no Ci sono Vabbè Ci sono dei siti Americani Andate Fate Fate Lì Ci sono Lì Buone Possibilità Di guadagno Anche se Io Attualmente Gioco Con la Switch E il Playstation Mi studio Leggo qualcosa E sto pianificando Quello che vi dicevo Prima Il lavoro Per i Post Non deve essere A cavallo Deve essere Bravi A riuscire A entrare Tra La fine Della crisi La crisi Sarà lunghissima Di questo periodo La fine Di questo periodo E l'inizio Del recupero Lì dovete Se entrate In questo momento Spaccate Spaccate E niente Per oggi è tutto Ragazzi Vi lascio Se il video Vi è piaciuto Lasciate un like Scrivete Nei commenti Cosa ne pensate Anche voi Se state investendo In cosa State investendo Soldi O Per fare business Seguitemi Mi raccomando E che oltre a questi video Che cerco di fare In maniera più frequente Perché mi sono messo conto Che ci saranno i cazzoni In giro E voi siete ancora più cazzoni Ascoltate i cazzoni Ci sono anche quegli bravi Non è che io sia Gesù Cristo E per oggi è tutto Buona quarantena Switch Arrivo Ciao Sì.